Siamo con il capitano Tiziano Laganà, comandante della compagnia carabinieri di Ischia. Comandante, c'è una notizia importante da dare. Sì, poco fa ho avuto notizia dai miei carabinieri che si trovano nell'area delle ricerche in località Santa Barbara, dove sarebbe stato ritrovato il cadavere di una donna. Abbiamo ovviamente informato le autorità competenti e potremo dare poi certezza sotto il coordinamento della prefettura. Al momento sono ancora in corso le operazioni, i miei militari sono sul posto assieme al personale dei Vigili del Fuoco e delle altre forze in soccorso per estrarre il corpo e poi procedere alla ufficiale identificazione.